migliorata e migliorata da una dretta è una fattigazione che ho passato tutto così è nato l'Urio, paese in mezzo ai boschi. Poi sono venuti i romani e hanno detto, qua com'è una manuia e tutti chiamano a votare. I pesciaioli da marina non avevano i fitti perché non si venneva, allora ho detto, non è venne qui l'antafere di santa luca, che c'è stata tanta gente. Ditto fatto, così è nata la tradizione nostra più conosciuta. Più dopo tenavamo un vescovo tanto istruito che l'hanno chiamato la corte di spagna, l'acqua da Isabella, da Colombo i tre caravelli e quella scoperta america. Ma voi venite qua, l'aria fine è l'acqua crocarella, vedete la coppa di questo paese a forma di cuore chiamata santa marica madonna bella, assaggiata, supressata, salsicchia e noglia e patana su Tavra Sur.